Il presidente della regione Marco Marsilio con i rappresentanti della coalizione di centrodestra questa mattina è in riunione a Palazzo Silone per la composizione della giunta regionale, composizione già trapelata nei giorni scorsi in realtà, che avrebbe però indispettito Forza Italia e la Lega. Forza Italia ha quattro consiglieri, le è stata offerta alla presidenza del Consiglio regionale un assessorato, alla Lega, che ha due consiglieri, offerto invece un assessore. I due partiti contestano il fatto che il presidente Marsilio vorrebbe dare tre postazioni a Fratelli d'Italia, che ha incassato otto consiglieri, uno alla lista del presidente e uno a noi moderati. In Abruzzo la giunta è a sei, ma i posti da assegnare sono otto, perché vanno aggiunti la presidenza dell'Assemblea, appunto, e il sottosegretario alla presidenza della giunta. Il muro contro muro, se così si può definire, nascerebbe dal fatto che il presidente Marsilio avrebbe proposto a Forza Italia due caselle, mentre loro ne chiedono tre. I forzisti non vorrebbero accontentarsi di un assessorato e della presidenza del Consiglio, insomma. Secondi piani la vicepresidenza andrebbe di nuovo ad Emanuele Imprudente, anche assessore, mentre l'assessorato alla sanità resterebbe come esterno a Nicoletta Verì. Marsilio come sottosegretario vorrebbe premiare poi la scoccia, sindaco di Prezza e molto votata, che sarebbe però in procinto di passare a Fratelli d'Italia. Gli assessori potrebbero essere dunque Mario Quaglieri, Tiziana Magnacca, Umberto D'Annuntis e la Verì, per la Lega Imprudente, mentre l'assessorato di Forza Italia potrebbe essere di Lorenzo Sospiri, che lascerebbe così la presidenza a Sant'Angelo. Forza Italia vorrebbe il sottosegretariato a Daniele Damario e questo, se fosse confermato, lascerebbe alla scoccia un altro incarico, la vicepresidenza del Consiglio.